La vacanza del sorriso vuole essere vicina ai genitori e ai loro figli costretti a restare in casa per evitare il diffondersi del coronavirus, proponendo un concorso grafico pittorico, disegni e composizioni da effettuare online sulla propria pagina Facebook, con votazione mi piace. Lo staff tecnico ha voluto denominare il concorso con il nome Vita Nova, quale slogan propiziatorio per una rinascita sociale, culturale ed economica all'insegna della salute, della tranquillità e del benessere per l'Italia e il mondo. Il titolo del concorso 2020 è Io resto a casa, racconto la mia giornata, raffiguro i miei sogni. Invitiamo i docenti a coinvolgere i propri alunni e i genitori a coinvolgere i propri figli in questo percorso artistico e di riflessione. Si potranno scaricare il modulo di partecipazione e il regolamento dal sito www.lavacanzadelsorriso.it. Per informazioni potrete contattare la segreteria al 339 66 84 818. www.lavacanzadelsorriso.it.com